cooperativa agricola volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori bentrovati al meteo pressione atmosferica in calo si avvicina una perturbazione proveniente dall'atlantico e il tempo peggiora vediamo il dettaglio di martedì 9 aprile sul veneto qualche schiarita al mattino poi sarà via via più nuvoloso specie nel pomeriggio con precipitazioni verso sera e poi nella notte in particolare tra martedì e mercoledì temperature in locale variazione minime tra 11 e 13 gradi massime tra 18 e 22 gradi ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia anche in questo caso inizialmente sarà piuttosto soleggiato a seguire maggiore nuvolosità prime piogge dalla sera in particolare nella notte temperature minime tra 10 e 13 gradi massime sui 20 22 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del trentino alto adige dove non mancherà un'alternanza tra sole e nubi poi verso sera probabilità di rovesci o temporali in aumento temperature minime sugli 11 gradi massime intorno ai 24 25 all'incirca dal meteo per ora è tutto vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia cooperativa agricola volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori grazie 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 grazie